Ecco qua, allora intanto noi stiamo chiacchierando, stiamo un po' facendo il punto di Roma perché effettivamente è interessante capire, crollo del turismo ma c'è qualche segnale di ripresa, qualche nuovo hotel che deve aprire, qualche cosa? Allora, sono dei segnali molto importanti perché quando le compagnie, queste multinazionali incominciano a aprire degli alberghi, ci sono in apertura tipo Bulgari, Sixth Sense, ci sono 3-4 grosse compagnie a livello mondiale che stanno aprendo su Roma, quando sono investimenti da milioni di euro e erano stati bloccati solo per la pandemia, però adesso ci sono le aperture quest'anno, quindi quando una compagnia, una multinazionale che ha il sentore da tutto il mondo di sapere, sa esattamente cosa succede, se apre un albergo che potevano posticiparlo di un anno o di due anni senza nessun problema, invece non lo stanno facendo, vedono le riprese, cioè loro riescono a capire in anticipo tra tantissimi segnali che il turismo è pronto a ripartire, ricordiamoci che questa pandemia ci ha insegnato tante cose, il turismo sono sensazioni, sono emozioni, va benissimo fare le videochiamate, tutto bello, possiamo vedere anche questi musei, anche nelle televisioni, ma non c'è l'emozione, l'emozione è quando si va in vacanza è la prima cosa, bisogna viverla, proprio per questo motivo qua il sentimento che sta venendo fuori che appena c'è la riapertura, come sta succedendo, tutti noi abbiamo bisogno di dire riparto, rivado in vacanza, in giro per il mondo, anche se noi l'Italia è bellissima, quindi è bene anche scoprirla, noi italiani invece di andare come al solito all'estero ci sono da noi regioni stupende che sarebbero importanti da visitare e proprio per questo motivo qua vediamo che Roma, che è l'attrattore numero uno italiano, la città eterna, in questo momento ha ancora il 20% gli alberghi chiusi, però se le compagnie a livello mondiale investono sulle riaperture vuol dire che siamo molto vicini e che anche Roma riparta molto velocemente. Questo è importante, leggevo un messaggio prima, vediamo se la regia me lo rimette in onda, da parte di un telespettatore o telespettatrice, vediamolo qui, eccolo, domenica ero a Milano e ho visto un fermento pazzesco, la lingua che si parlava per la strada era prevalentemente straniera. Giusto. Anche lei è stato a Milano? Sì, ero a Milano, già anch'io da domenica fino a ieri. C'è la Borsa Internazionale del Turismo, per cui… Infatti, la Borsa Internazionale del Turismo è stata aperta dal Ministro del Turismo a Garavaglia, erano presenti tutte le autorità, l'Enit, l'Internazionale Italiano del Turismo, è stata una borsa dove tutti gli operatori in questo momento volevano capire il futuro, questa è stata la prima cosa. È stata una borsa non più virtuale, perché ricordiamoci che abbiamo fatto a febbraio 2020 la BIT prima delle chiusure di fine febbraio, dopodiché nel 21 è stata virtuale. Una Borsa del Turismo non può essere virtuale, una Borsa del Turismo bisogna viverla, bisogna stare insieme con le persone da tutto il mondo e c'era una grandissima presenza, anche poi perché su Milano non c'è solo le Borse del Turismo, ma ci sono tutti gli eventi e i fiere congressi che ogni giorno ce n'è quasi una che si sta muovendo. Vediamo che anche su Milano, dati proprio del Milano congressi, del Mico, parlano già che a settembre-ottobre si torna anche superiore al 2019, perché gli eventi che sono stati fermi, adesso in questo momento che c'è la ripartenza, tutti stanno cercando, sia l'ventifarma, quindi dell'industria farmaceutica, che le aziende, quindi come Business Travel, stanno tutti cercando di rifare queste convention che sono importanti, perché sono aggregazioni tra le persone, sia per le vendite o per anche eventi culturali e Milano, i dati di Milano sono che a settembre-ottobre, quindi eventi congressi a Milano del centro loro è in overbooking, questo è un evento importantissimo. Quindi da settembre-ottobre riprendono tutti gli eventi congressi, quindi torna ad essere una città business importante. Sì, già da maggio c'è una grossissima ripresa, non si va in overbooking, c'è il salone mobile a giugno, infatti uno dei primi sentori è a giugno, che è stato spostato, è stato messo a giugno, vediamo proprio cosa sta succedendo, le richieste sono molto alte, ci sono conferme, fortunatamente la guerra nel mondo del turismo non ha impattato in modo pesante. Sì, questo mi sembra sano, perché io ero convinta, in base a quel che sentivo in giro le persone, che più che altro non è tanto la guerra in sé per sé, perché per adesso non succedono disgrazie, lì è, è il fatto che tutto il clima che si viene in generare, la situazione dei prezzi, l'aumento, solo i semplici ristoranti hanno dato l'annuncio con Fesercenti, ha fatto un'indagine, 10% medio di aumento dei ristoranti, gli hotel, e tutto il comparto della Telerica ha un aumento, anche quello importante, tutto, tutto, i voli, quindi il carburante, i voli, gli spostamenti, il gasolio, la macchina, tutto in aumento, bene o male, a meno che uno non rientri in quella fascia, non più la media ma l'alta, però non è che ce ne sono miliardi di persone, il 5% è il lusso, la famiglia media, io sento tantissimi che dicono devo tagliare e taglierò non certo il riscaldamento, non certo il cibo, non certo quello, non quest'altro, ma devo tagliare queste altre cose perché abbiamo avuto un rincaro per famiglia, si prende 2-3 mila euro all'anno. Certo, la sua analisi è giustissima. Un attimo solo che leggo la messaggio, se gli operatori turistici pensano di risollevarsi con i miei soldi si sbagliano, io credo che anziché aumentare bisogna pensare a riempire con politiche più economiche. Io capisco quello che è stato scritto qua, però faccio un esempio, un albergo magari meglio pagava ogni mese 20 mila euro di bolletta di luce elettrica, adesso siamo a tre volte tanto, 60 mila euro anche al mese, quindi sono dei costi reali, certi, su tutto il mangiare è automaticamente aumentato. Sì, è giusto, quello che io intendo dire è che senza dubbio l'impatto ci sarà sulle persone, adesso in proiezione dico che bello, vado in vacanza chissà dove, poi arrivo al momento e dico, beh, oddio, i conti non mi tornano più come prima, magari uno ha un bambino, due bambini, ha dei figli da mantenersi accorto che la spesa è aumentata e deve rivedersi, però chiedo, lei chiede il settore, e relativamente anche a questo messaggio, gli hotel, adesso ho avuto anche l'opportunità di andare alla vita per vedere, controllare un po' il punto della situazione, parlavo con l'hotel dove ero e mi dicevano, ma fino adesso non è andata bene come gli anni scorsi, c'è stato un'impennata in questi giorni che avevano peraltro delle offerte particolari per chi prenotava una marea di tempo fa, però vedremo da qua in avanti, allora gli dico, se quando tu fai delle offerte particolari, che poi non sono i prezzi da dire, offerte, attenzione, un'offerta milanese è molto tra virgolette, ecco, e vedi che ti riempi, allora l'avere riempito non ti compensa l'avere invece riempito solo quattro stanze al massimo del prezzo, comunque non rientri, perché la sala ristorante non potrà eccedere una luce sola, dovrà eccedere tutte, cioè quello che non capisco, non vale la pena cercare di avere un introito minore, ma tutto pieno, il ristorante pieno, piuttosto che il ristorante con cinque tavoli, tanto comunque lo chef lo paghi, la cucina, e non è letto di pasta in più che fa la differenza? Sono pienamente d'accordo con lei, però questi conti in tasca, tra virgolette, le grandi compagnie lo fanno, il problema è che sono sui piccoli imprenditori che hanno un sentimento un po' differente dalle grandi compagnie e cercano di vendere, però se non riescono a vendere dopo automaticamente anche loro sono obbligati a diminuire il prezzo, l'abbiamo notato anche noi questa cosa qua, le grandi compagnie hanno le tariffe flessibili e abbiamo visto che anche sotto data se non viene riempito il prezzo diminuisce, specialmente se anche due mesi prima vedono che hanno problemi di prenotazione, se vanno già in overbooking con due mesi di anticipo allora il prezzo rimane alto, ma se automaticamente le tariffe calano. Quello che bisogna però fare anche quest'anno bisogna capire perché quest'anno è un anno dove si riparte da zero, quindi ripartendo da zero tutte le vecchie statistiche, tutti i vecchi dati come pensavamo noi sarà tutto differente perché il mondo è cambiato, lo sappiamo. Aumento della tariffa, sì, minore capacità di spesa, sì perché questo è quello che sta succedendo, però c'è una grossissima richiesta di non solo italiani quando adesso con gli ultimi uoli che stanno aumentando, quindi cosa succederà? Che ci sarà un maggiore numero di presenze con dei però, non si farà più la settimana o i dieci giorni, ma magari quattro giorni, però è talmente altra richiesta tipo la montagna, la stessa cosa ce l'abbiamo in montagna, 2020 e 2021 la montagna ha fatto degli anni specialmente d'estate stupendi, sempre quasi sempre in overbooking, lo stesso il mare perché tutti gli italiani, la tariffa non è diminuita, la tariffa è stata molto alta, chi ha sofferto sono le città d'arte, le città d'arte è facile che abbiano sia l'italiano che lo straniero che invece di fare i dieci giorni o i quattordici giorni in giro per l'Italia mai fanno sette giorni, però mai sette uno e sette l'altro riusciamo a riempire lo stesso le città. Quindi ce lo va a compensare per il momento? Dovrebbe andare a compensare sì. Per i ristoratori che si lamentano, dico viva lo street food con 30 euro abbiamo mangiato e bevuto in quattro, forse su questo dovrebbero riflettere Gianni da Padova. Sì, sono pienamente d'accordo su quello che scrive, le inflessioni vengono fatte, però come dicevo prima, se ho il ristorante che è vuoto, automaticamente domanda offerta il prezzo rimane basso, però tanti ristoranti noi abbiamo visto, non quelli centrali a Padova ma in giro per l'Italia, quelli che vivono con gli italiani non hanno anche qua avuto una flessione molto alta, la flessione su certi ristoranti è stata anche quasi a zero, quelli turistici hanno avuto l'80-90% in meno, quelli in meno turistici per i locali la flessione è stata molto più bassa. Anche qua i prezzi si stanno impennando come sul gasolio che abbiamo avuto punte da 2,2 in autostrada, io ho trovato personalmente anche 2,6, questo qualcuno ci sta guadagnando e questo non va bene, questo va a discapito del consumatore finale ma anche di noi operatori che non riceviamo le prenotazioni. Infatti perché poi i discorsi sono sempre quelli l'onda lunga, è tipo il 2008, il 2008 è scoppiato prima come tragedia a Milano e lo si ricorda delle multinazionali che lasciavano a casa dipendenti, poi l'onda è arrivata anche qua in Veneto e noi praticamente è stato il 2009-2010 che abbiamo avuto veramente impressionante la situazione e si è trascinata purtroppo per un bel po' di tempo. Cioè il discorso è questo, adesso le persone escono da due anni di lockdown, voglia di uscire perché non c'è weekend in cui non ci sia gente dappertutto, in casa secondo me non ci vuole stare più nessuno se non uno è costretto, giustamente una voglia di aria, luce, sole, vedere, fatto ed è benissimo. La paura è che se uno non ha l'intelligenza invece che dire spenno tutto quello che arriva e cerco invece di portare avanti, ti trovi a un certo punto a settembre, ottobre, dove basta si blocca tutto, è come il settore di inizio, ti blocchi completamente, quando sei bloccato, sei bloccato? L'analisi è giustissima, ma infatti qua bisogna anche un attimino che sia un po' il governo a vedere queste operazioni a 360 gradi. Ma non può mettere becco nelle tariffe, mi hanno già chiesto, non può mettere becco sulle tariffe che fa l'hotel anziché il ristorante anziché le ricevende. Sono d'accordo, ma sul carosene sì però, sul gasolio è l'unico. Che vuol dire tanto sull'elettricità, si può vedere, c'è il prezzo al barile a 111 dollari, non è aumentato quanto la benzina il prezzo al barile. Ma lì voi state facendo qualcosa? Stiamo cercando, noi stiamo molto in contatto con tutte le istituzioni proprio per parlare di queste cose qua, perché come diceva lei, dopo a settembre magari non ci troviamo più per notazioni, che sarebbe il più grave danno che possiamo avere. Adesso noi dobbiamo ripartire molto velocemente, dando il massimo della qualità, perché è importante quello che noi diciamo sempre come associazione, che c'è il prezzo ma bisogna dare anche la qualità. Questi sono i punti fondamentali, sia se uno spende poco che uno spende tanto, però la qualità ci deve essere data. E le istituzioni stiamo chiedendo proprio di riuscire a fare il più possibile promozione. Abbiamo l'ente nazionale del turismo LENIT, che si è rimesso in moto molto bene, ha delle ottime proiezioni in avanti. Tutto il sistema proprio del turismo tramite le istituzioni adesso dobbiamo far promozione, dobbiamo farci vedere in giro per il mondo, dobbiamo far vedere quanto è bella l'Italia. Sì, rilanciare un po' una... Rilanciare, rilanciare. Perché dopo quando passa un po' di tempo si va nel dimenticatoio. Torniamo su questi temi anche in un contesto internazionale, tra poco dopo la pubblicità.